Il Fotoclub di Pesaro quest'anno organizza una mostra fotografica su Dante Alighieri. Abbiamo pensato di onorare i suoi 700 anni dalla sua morte, facendo una mostra itinerante nella nostra provincia, nei paesi della nostra provincia che sono citati nelle terzine del Sommo Poeta. Questa mostra si svolge a Gradara, alla Casa del Gufo, poi dal giorno 8 sarà visibile per tutti fino al 31 di ottobre. Poi questa mostra si sposterà naturalmente nelle altre città, menzionate dalla Divina Comedia, insomma, nelle terzine di Dante. E quindi l'idea di fermare con lo sguardo fotografico proprio quei luoghi, da Firenzuola a Fontevellana, tutti i luoghi che insomma sono della narrazione dantesca che riguarda la nostra provincia, in una mostra che non poteva non essere itinerante, non poteva non prevedere una tappa importante a Gradara come quella che presentiamo oggi. Poi l'auspicio ovviamente, il progetto è di far arrivare questa bella esperienza itinerante anche a Pesaro, quindi anche come sorta di ritorno a casa del fotoclub e contiamo di programmare questo momento pesarese entro il 2021, anno dantesco. Dante Legheri a livello regionale per noi è una grandissima opportunità di promozione del territorio e grazie a questa mostra sicuramente riusciremo a far capire anche ai nostri cittadini l'importanza di questo bellissimo evento. Grazie a tutti.